Musica Salve a tutti i friends dal vostro Supercorri Sacroci qua ragazzi Pagelle di fine stagione piloti Ormai siamo arrivati praticamente ai piedi del podio Infatti oggi parliamo di George Russell Pilota arrivato quarto nella classifica finale Beh è stata una stagione per Russell a tinte diverse Una partenza abbastanza folgorante Si è messo dietro Hamilton più e più volte Poi nel momento che la Mercedes è diventata veramente competitiva Ha perso un po' di prestazione Tant'è che Hamilton l'ha battuto diverse volte Hamilton ha sfruttato chiaramente il fattore esperienza L'essersi riuscito ad adattare meglio alla vettura Ad adattarsi meglio alla vettura di metà stagione Poi sul finale Russell vince la gara in Brasile Ma è evidente che è una vittoria veicolata Io vi ho detto Non si discutono le doti del pilota Russell il pilota fantastico che è Cari amici miei Le ha dimostrate Quando nel 2020 Andò a sostituire Hamilton E avrebbe vinto quella gara Se il team non gli avesse fatto casini Quindi rendiamoci conto Già due anni fa Russell poteva ottenere Quella che era la prima vittoria del mondiale Dimostrando che Pilota che all'esordio sale su una macchina Sì vincente ma Comunque con tutte le modifiche e le cose del caso E già rischi di vincere Sei un fenomeno Le qualità di Russell come quelle di gente come Norris Non sono assolutamente da mettere in dubbio Ora è chiaro che Mercedes gli ha un po' Spianato la strada Perché? Perché è evidente che Mercedes punti forte su Russell Per il futuro e non su Hamilton Non lo devo dire io Ho fatto un video dove vi ho fatto vedere Quando un grande team Ha un pilota giovane e forte Che percepisce uno stipendio minimo E ha un grande campione Ma che comunque inizia a vacillare Il grande team sceglie il pilota giovane Russell quest'anno 3 milioni di euro di ingaggio Confronti 50 di Hamilton Allora Hamilton in pista Non lo ha devastato sicuramente Anzi è stato battuto alla fine Quindi è chiaro che Mercedes inizia a fare due calcoli Dice ah beh Hamilton c'è un altro anno di contratto Se noi dobbiamo fare un favoritismo Un aiutino Lo facciamo su Russell e non su Hamilton E' ovvia la cosa Allora prima di partire ragazzi con il video Vi ringrazio enormemente Perché state donando in tanti Ringraziamo Fabrizio Ringraziamo Yuri Che hanno donato 100 euro a testa Ieri per la beneficenza Sono cose incredibili Tanti altri ragazzi Cristian e gli altri hanno donato 30 euro Io quelli che stanno facendo le donazioni più incredibili Li sto mettendo sui social Perché ragazzi Serve anche per fomentare Tutti il movimento donazioni E per prendere esempio da questi ragazzi che si privano di soldi loro per aiutare la beneficenza Già siamo a quasi 400 euro anche questo mese Ed è incredibile ragazzi È incredibile Cioè forse voi non vi rendete conto Raccogliere 4, 5, 600 euro al mese di beneficenza È incredibile Voi non vi riuscite a rendere conto di quanto sia incredibile Aiuteremo diversi enti Anche questo mese Non faremo una donazione unica Vedremo vari enti Vorrei per esempio capire un po' se si può donare alla Caritas Visto che mi hanno detto che sta in condizioni pietose Per tutta la gente che sta andando Vedremo ragazzi Save the children Qualcosa di questo Cambiamo Abbiamo donato per la ricerca A inizio gennaio A inizio febbraio Doniamo per la fame nel mondo Per queste altre problematiche Aiutiamo loro Poi magari a marzo aiuteremo animali E tutti i vari cavoli collegati agli animali Vi ringrazio ragazzi Siete preziosi Anche un euro basta Un euro Già fa la differenza Quindi grazie a tutti Iscrivetevi a tutti i miei canali Lasciate un like Savitemi sui miei social C'è il canale Telegram dell'offerta Dove ieri ho messo 49 offerte Poi la gente si lamenta pure Ci rista Xbox Series S A 239 euro Che è un furto Io l'ho pagata 300 euro Sette mesi fa È un furto C'è il canale ufficiale Supercorris 84 di Telegram Per le news in anteprima E i sondaggi con cui vi chiedo Cosa volete vedere sui miei canali Allora Russell Primissima gara Non è partito benissimo Perché comunque è arrivato dietro Hamilton Hamilton fa il podio Anche grazie al ritiro delle Red Bull Russell arriva dietro Non fa una grande gara neanche a Jedda Dove praticamente non si riesce mai A inserire nella lotta per il podio Dimostrando una Mercedes in crisi enorme Però poi già in Australia Dà la prima spallata a Hamilton Russell con una strategia diversa Si mette davanti a Hamilton Hamilton gli arriva dietro Via radio dice Sono più veloce Posso passare Il team congela un po' le posizioni Quindi dimostrando che C'è questo favoritismo Nei confronti di Russell A Imola abbiamo assistito Al crollo di Hamilton Che non è riuscito neanche a sorpassare Gasly Albon è rimasto infischiato fuori dalla zona punti Russell In una situazione di pioggia Sole Non si capiva È arrivato quarto Quindi dimostrando ancora una volta La sua bravura Idem negli Stati Uniti Anche lì Hamilton ha avuto una strategia A dir poco discutibile Russell arriva quinto Dietro i quattro top Però Sembra più evidente Sempre più evidente Come il team probabilmente a Hamilton Lo stia un po' penalizzando In Spagna arriva terzo Russell Hamilton Sbaglia Arriva dietro Quinto a Monaco Continua la serie positiva di Russell Davanti a Hamilton Quinto a Monaco A Baku Arriva terzo Batte di nuovo a Hamilton Quindi vedete Praticamente ragazzi A parte la prima gara Russell in questo momento Batte sempre a Hamilton In Canada Arriva dietro In Canada C'è la La riscossa di Hamilton Che evidentemente Con la direttiva TD39 Riesce meglio a guidare la vettura E arriva terzo Russell quarto A Silverstone Russell si ritira Nella carambola Spaventosa al via Che non consente Di fare la gara Avrei voluto vedere In casa Russell Cosa avrebbe combinato Con Hamilton Che comunque arriva Terzo sul podio Ma anche e soprattutto Per negligenze Ferrari E poi ragazzi Qua arriviamo In Austria Russell quarto E qui francamente Abbiamo visto anche Degli errori Delle problematiche Nelle prove Russell ha prestato Un po' il fianco Ai primi errori Gravi stagionali Che hanno fatto iniziare A pensare Beh Chissà questo qua Se qualcosa Non mi quadra È iniziato Un po' A schicchiolare Vabbè C'è il terzo posto In Francia Ottimo terzo posto In Francia Ottimo terzo posto Anche in Ungheria Ma sono tutte gare Dove vedete Che Ferrari Si è autosuicidato Ecco perché Hanno preso Questi risultati Comunque sempre Con Hamilton Magari secondo Qua inizia ad essere Una bella battaglia Tra i due Perché una volta Arrivava davanti uno Una volta arrivava Davanti un altro Hamilton ci aveva preso Le misure In Belgio Hamilton si ritira Nuovamente Quindi lasciando Via libera a Russell Che a un certo punto Della gara Sembra essere in procinto Di superare Anche Carlos Sainz E poi non ci riesce Perché Sainz Si riprende A Zandworth Arriva secondo E qua ragazzi Una gara Che Hamilton Poteva vincere E si ritrova Dietro Russell Succede tutto Quello che doveva succedere Putiferio pauroso Anche la direzione gara Che alle volte Fa in modo Che alcuni piloti Arrivino davanti Stessa cosa A Monza A Monza Russell era palesemente In crisi Di velocità Di tempi sul giro Entra la safety car finale Si può tentare Di ripartire E far ripartire la gara Per uno Ma anche due giri Ed invece Verstappen primo Russell terzo Facciamo finire la gara così Sainz lo avrebbe superato Sicuramente Quindi vedete Come Mercedes Inizia a tornare su Anche dal punto di vista Del peso politico 14esimo a Singapore E là gli va tutto storto Fa tutti gli errori Possibili Immaginabili E là vi dico Un pilota Vedete che inizia a sbagliare Un po' di più A Suzuka Ottavo Non fa una grande gara Alla fine rimonta Ma No Il dubbio che ho io È Russell Sul bagnato È veramente così forte Oppure uno di quei piloti Abbastanza mediocri Perché ragazzi È importante Pilota che è forte Anche sul bagnato È un pilota Che ti può vincere mondiali In maniera importante Perché magari in un anno Ti piove 5 volte 6 volte E tu vinci tutte quelle gare Quindi Come era Senna Come era Schumacher Che bastavano 4 gocce E andavano il triplo Degli altri Russell lo dobbiamo ancora valutare Negli Stati Uniti Fa quella fregnaccia Vergognosa Di sbattere A Sainz Cioè dimostrando Che probabilmente A fine stagione Russell non era proprio Nelle migliori condizioni mentali Secondo me È iniziata a subire Il ritorno di Hamilton In maniera eloquente Non puoi sbattere Un pilota Davanti Alla prima curva Sapendo bene Come è fatta La prima curva di Austin Ragazzi Poi se ci giochiamo Con i videogiochi La prima curva di Austin Una curva bastarda Non puoi arrivare A kamikaze Eh ma ma T'ha frenato Ma tu che stai lieto Devi frenare ancora Prima che t'ha frenato Quello davanti Prende in pieno Sainz Lo fa ritirare E soprattutto Prende una penalità Vergognosa 5 secondi di penalità Per un incidente del genere Ragazzi non si erano mai visti Potere della Mercedes Che Torna a comandare Anche da quel punto di vista In Messico Fa uno scialbissimo Quarto posto Prendendole di santa ragione Da Hamilton Che invece arriva secondo E poi c'è la vittoria Del Brasile La vittoria del Brasile Ragazzi è da commentare Come vittoria Non regalata Non voglio dire questo In Brasile Più o meno Russell e Hamilton Erano sullo stesso passo Ma come su tutta la stagione Io vedo che questi due piloti A livello prestazionale Si equivalgono Se dobbiamo essere Molto sinceri È positivo Perché Hamilton A 38 anni Continua ad avere comunque Il passo di un ventenne Di belle speranze È negativo Perché Hamilton Sette mondiali Un pilota del genere Dovresti arare Asfaltare In Brasile Russell ottiene La sua prima vittoria In carriera Con Hamilton Che in un certo punto Della gara Aveva la strategia migliore Mercedes decide Di fargli seguire La stessa strategia Di Russell Nonostante Hamilton Potesse andare Molto in là Con le gomme Sostanzialmente Gli regala la vittoria Vittoria veramente Regalata Perché L'avrebbe potuta Prendere anche in pista Ma sarebbe stato diverso Avrebbe dovuto lui Sorpassare Hamilton E quindi vedete ragazzi Secondo me Mercedes Una scelta Già la fatta Poi vedremo anche Quest'anno Chiude con un quinto posto Ad Abu Dhabi Senza infamie Senza lode Nella gara dove Mercedes doveva attaccare Il secondo posto Di Ferrari Nel costruttore Non ce la fa E lui arriva solo quinto Stagione di Russell Stagione 8 Perché Il voto deriva Dal fatto che Comunque ha battuto Hamilton Comunque è stata Una stagione Che ha confermato Le enormi potenzialità Di Russell Come futuro Probabile Campione del mondo Russell è uno di quelli Come Norris Che purtroppo Non è ancora la macchina Che possono vincere Diversi mondiali Ha la bravura Ha il talento Ha la velocità Non gli manca nulla Però è chiaro Che poi tra il dire e il fare Ci passa il mare Comunque la stagione è buona Si è messo dietro Hamilton Ha avuto la sua prima vittoria Nel mondiale E soprattutto Ha dimostrato una qualità Che Hamilton non ha Il saper leggere la gara E il saper dire al proprio team No guarda A me questa Strategia non mi piace E vado avanti Lo ha fatto diverse volte Durante il mondiale E questo gli ha permesso Tante volte di stare davanti A Hamilton Anche per questo motivo Invece Hamilton Chi la seguite Sta sempre alla radio E quella E sopra e sotto Che devo fare Che non devo fare Cioè pilota molto Dipendente dal team I piloti alla Russell Alla Sainz Da questo punto di vista C'è una marcia in più Quindi fatemi sapere la vostra E ci vediamo Nel prossimo video